Popolo di internet, ben ritrovati in un nuovo video oppure benvenuti se è la prima volta che passate da queste parti Io sono uomo che sapeva troppo, per gli amici uomo Vi invito ad iscrivervi al canale, attivare le notifiche con la campanellina nel caso non l'abbiate ancora fatto E a venirmi anche a trovare sul mio canale Twitch per una serie di live, di chiacchierate a tema cinecomic, a tema altri fumetti, a tema videogiochi, a tema Lego Insomma, cultura poppa, 360 gradi e trovate qua sotto tutti i modi per raggiungermi Ma questo mini preambolo che vi invita a scoprire il mio multiverso Lo faccio con, ovviamente alle spalle, Gotham City di Lego Perché siamo qua per parlare di Deadpool e Wolverine Di Deadpool e Wolverine che ho visto in anteprima L'ho visto in anteprima, posso finalmente parlarvene Oramai è scattata la mezzanotte, siamo al day one Marvel è stata molto, molto attenta a mettere, diciamo, un embargo molto vicino all'uscita del film Di solito questa cosa succede per due motivi Uno, perché il film magari è brutto o pensano possa non avere successo L'altro è perché vogliono evitare il più possibile spoiler Magari, appunto, per un film che secondo loro invece di successo ne farà molto E direi che, indipendentemente dalla bellezza del film o meno dal gradimento del sottoscritto Il successo di Wolverine e Deadpool è abbastanza certo Direi questo La chiacchiera, recensione che farò adesso è senza spoiler Ma nella seconda parte del video spoiler ci saranno Ma vi avviso prima, quindi scappate appena dirò ok Ora iniziano gli spoiler, vi darò qualche secondo per chiudere il video E poi si comincerà a farne Ma, ma, cominciamo con la parte senza spoiler Ovviamente vi faccio anche vedere che all'anteprima ci hanno dato Cosa che faranno anche alcune sale Due collanine, vedete, collanina doppia Per formare il cuoricino con la scritta Best Friends So che in alcuni cinema danno il portachiavi invece Non le due collane D'altre parti non danno manco quello Ci sarà domani sera Anzi, oramai stasera, visto che è passata la mezzanotte L'anteprima dove andrò io Anteprima, la prima dove andrò io all'Arcadia di Melzo Dove invece daranno un fumetto, un albo a fumetti Cosa molto figa secondo me Perché bellissime queste Però le puoi trovare più facilmente in giro per internet Il fumettino, per quanto magari sia una storia già raccontata Ma esclusivo, non è male E poi c'era la borsa C'era la borsa Deadpool da una parte Wolverine dall'altra Tra l'altro c'è anche il portamonete Il portaqualcosa Con il loghino di Deadpool Tagliato dagli artigli Carina, carina Gadget carini Gadget carini Anteprima, anteprima del film Chiacchierata senza spoiler Mi è piaciuto Tanto Mi ha fatto ridere tantissimo E il modo migliore per descrivere in realtà Secondo me questo Deadpool e Wolverine È che è un non film Se dovessimo analizzare la pellicola Come film a sé stante Come pellicola fatta e finita Come operazione proprio filmica Forse risulterebbe addirittura anche molto debole come film È veramente una trama esile È veramente una serie di pretesti letterali Perché i due si incontrino E perché in qualche modo Deadpool Entri in contatto Appunto con il carrozzone Dell'MCU È una cosa che si vede anche nei trailer Cioè Lui lo dice Sono il Marvel Jesus C'è proprio la Ti viene sbattuto in faccia Che Deadpool sta arrivando Nell'MCU Ci resterà Non ci resterà Come farà Questo non è Quello di cui parliamo adesso Perché non voglio fare spoiler Però l'intento era quello Se noi estrapoliamo il film Da quell'intento E quindi lo analizziamo come film in sé Veramente è un film che potrebbe risultare debole E addirittura potrebbe non piacervi Cioè questa cosa È meglio metterla subito in chiaro Deadpool e Wolverine Anche a differenza dei primi due Deadpool Che secondo me si reggevano di più Come film indipendenti Deadpool e Wolverine Da subito In maniera molto intenzionale Mette in chiaro una cosa Vuole raccontarci una sorta di gimmick Una sorta di Non barzelletta Però una sorta di Riflessione Sull'MCU Su Deadpool Su quello che è stato Il mondo dei cinecomic Su quello che sarà Vuole divertirsi a giocare con i personaggi Sia in maniera mascherata Quindi Deadpool e Wolverine Che in maniera smascherata Inteso come gli attori Hugh Jackman e Ryan Reynolds Ci sono tante battute Anche molto metacinematografiche Anche basate sulla realtà E sul loro rapporto reale Quindi è un film che Da subito Dice questa cosa La esplicita veramente Dal secondo uno Dal secondo uno Non vi dico nient'altro Però è un film che Viene anche narrato Dalla voce di Deadpool Come ha sempre fatto Negli altri film Ci sono un po' di momenti Chiaramente narrativi O nei quali Chiaramente Il mercenario Chiacchierone Rompe la quarta parete E quindi Ci parla Ci racconta Quello che in qualche modo Il film Ci sta dicendo Se questo gioco Non lo accettate O non vi interessa Accettarlo Perché magari dite Non è il mio pane Non è quello Che voglio Dall'MCU Non è qualcosa Che serviva All'MCU Non lo so Ci possono essere Mille motivi Per i quali Deciderete di non accettare Ripeto Il gioco Le regole Di questo film Beh in quel caso Veramente Potresti anche odiarlo Questo Deadpool e Wolverine Magari qualcuno Nei commenti mi dirà Oh uomo Io in realtà L'ho odiato O odio Le battute Che rompono La quarta parete E voi direte Beh allora Non andare a vedere Deadpool Certo Però C'è modo E modo di farle Magari quelle Del film Potreste odiarle Per una serie Di motivi Potreste odiare Magari appunto Questa trama Flebile Un po' pretestuosa Fare un'analisi Molto approfondita Di quello che il film Racconta E magari accorgervi Che in effetti Non è che racconta Tantissimo Però chiaramente Gioca con un immaginario Hanno detto A Ryan Reynolds Ora puoi giocare Con tutta la Marvel Con tutto l'MCU Certo hai un budget Quindi Devi capire Quali attori Vogliono esserci Quali attori Non vogliono esserci Quali cameo Riusciamo a mettere Quali personaggi Non vogliono più tornare Neanche se strapagati Insomma Con una serie Di soldi In mano Ryan Reynolds Ha potuto costruire Assieme al suo gruppo Di scrittura Ad altri attori Come lo stesso Hugh Jackman Che ha aiutato Sicuramente La realizzazione del film Alla fine A tirare fuori Questo Deadpool e Wolverine E voglio dirlo Ancora una volta Se non accettate Questa cosa Potreste Non amare il film Quindi Non sentitevi colpevoli Non sentitevi Neanche nel giusto Secondo me Nel senso che Questo tipo Di approccio O lo si accetta O lo si accetta Ma non è giusto O sbagliato Semplicemente È una questione Veramente di gusti O di esigenze Personali Se però Come il sottoscritto Entrate Nel mood Che il film Vi propone Se ascoltate bene Le parole Che lo stesso Reynolds Vi dirà In quanto spettatori E se seguirete Piano piano Quello che vi racconta Scena per scena Cameo per cameo Battuta Metareferenziale Sull'MCU Dopo battuta Metareferenziale Sull'MCU Vi divertirete Tantissimo Io ho riso Dall'inizio Alla fine Ho riso tanto In un paio di momenti Stavo soffocando Dal ridere Ci sono dei momenti Inaspettati Ci sono un sacco Di cameo Anche inaspettati Che i trailer Non hanno svelato E neanche in parte I leak Che sono usciti Hanno svelato Si gioca molto bene Appunto Con la metareferenzialità Secondo me Lo si fa tanto E quindi magari Si potrebbe gradire meno Questa cosa Le scene d'azione Sono molto fighe La regia Devo dire di Sean Levy Non è stellare Non è stellare Io credo che Nella trilogia di Deadpool Tim Miller Con il primo Deadpool Aveva fatto il lavoro migliore Qua ci sono un po' Di momenti Un po' Un po' sporchi Non è una messa in scena Potentissima A volte Vince di più Il personaggio Che è in scena O il momento Che stiamo vedendo In quel preciso istante Ok Che effettivamente L'ha messa in scena La regia Cioè Per dire Per non farvi spoiler Nessuno di noi Pensava Ok Che Deadpool e Wolverine Un giorno Si sarebbero incontrati Oramai Questo film Chiaramente lo fa succedere Si vede anche nei trailer Ecco Magari In uno scontro Tra i due Ho trovato la regia Buona Ma non stellare E ho pensato Il pubblico Probabilmente Anche in sala Vedendo alcuni applausi Alcune Alcune esaltazioni A me piace Esaminare un po' Il pubblico in sala In quel momento Si sta esaltando Molto di più Probabilmente Per il fatto Che sta vedendo Finalmente Loro due Malmenarsi Che per la messa In scena Del combattimento Ok Come dire Che in No Way Home Alcune scene Erano un po' Oscure La regia Era un po' Tremolante Non erano Sti gran scontri Secondo me Quelli di No Way Home Però personalmente L'idea di vedere I tre Spider-Man assieme Vinceva Sull'effettiva efficacia Della messa in scena Ecco qua mi è capitato Ci sono un paio di momenti Che non dico avrei fatto In maniera diversa Perché non sono regista Ma che con un occhio Più Con un piglio Più autoriale Più registico Qualcuno con magari Una mano Più abile Sto dicendo che forse Sean Levy Non è Questo maestro regista Ecco Poteva venire fuori qualcosa Magari di più interessante Per dire Faccio un nome a caso Ma si è fatto anche Chiacchierando post Anteprima Magari un James Gunn Con Che si trova a suo agio Comunque con questi eroi Un po' sboccati Queste situazioni Un po' surreali Magari avrebbe tirato fuori Qualcosa di più interessante Per dire La scena di Guardiani 3 Del corridoio Fatta Giusto perché Volei far vedere Che era uno sborone Per carità Però dimostra Una mano registica Che ad esempio Secondo me Il buon Levi Non ha Però sono veramente Minuzi e ripeto In quello che è Un grande calderone Super divertente E che Veramente vi strapperà Un sacco di risate Con una colonna sonora Fantastica Con dei momenti Anche profondi Tra personaggi Con La maturazione Sia del personaggio Di Wolverine Di quello comunque Del film Lascio a voi scoprire Che variante sarà Da che universo Proviene Qual è la sua storia Se lo abbiamo già visto Oppure no E chiaramente Deadpool Quindi c'è un'evoluzione Dei personaggi Solo loro però Quella dei comprimari È inesistente Di fatto E Gran parte Dei comprimari storici Perisce un po' In favore Di nuovi personaggi Di nuovi cameo Che non hanno Sicuramente La potenza Del vecchio cast Di Deadpool Su questo Sono abbastanza Certo Di quello che dico Parliamo del personaggio Di Emma Corrin Ovvero La Cassandra Nova Pelata La Xavier Del Vuoto Che abbiamo visto Nei trailer L'ho trovata Molto Molto In parte Molto Istrionica Brava Divertente Divertita Certo Anche qua Il personaggio Viene approfondito Molto Molto Poco Ecco La cosa che dovete Aspettarvi È che tutti i personaggi Di questo Deadpool E Wolverine Sono veramente Profondi come un foglio di carta La profondità è poca Tutto il film È in mano a Hugh Jackman E Ryan Reynolds E attenzione È quello che il film voleva fare Quindi ribadisco anche qua Accettate questo gioco Accettate Che siano loro due I veri protagonisti Del film E la loro evoluzione Le loro battute Il loro rapporto Detto ciò Vi troverete davanti Appunto Un film Super divertente Un film Pieno Pieno di momenti Uno dopo l'altro Senza freni Con tantissime sorprese Sia dal punto di vista Dei camei Che delle situazioni Vere e proprie Che non vi immaginerete Sicuramente Anche se magari qualcosa Potreste averlo ipotizzato E magari ci avete preso Nei mesi passati Ma è un film Consigliato Che voglio Che andiate a vedere Un film che Merita di essere visto È un esperimento Sia cinematografico Che narrativo Veramente senza precedenti Quindi È un unicum Che a suo modo Merita Merita la visione Consapevoli Di stare vedendo Un Deadpool All'ennesima potenza Più legato Alla Natura Meta Del personaggio Consapevole Di trovarsi in un film Consapevole Di trovarsi in un nuovo Franchise Consapevole Del fatto che Non era nell'MCU Adesso lo è Cioè più quel lato Di Deadpool Rispetto ad altri Esplorati dagli altri film Ma in quel caso Insomma Se con questa consapevolezza In mano Godrete Secondo me Veramente come Dei mandrilli E io l'ho fatto Io mi sono veramente divertito Non vedo l'ora di vederlo Sono contento Di vedere a stretto giro La prima del film Su uno schermone enorme Come quello dell'Arcadia Tra l'altro Ve lo racconterò Con un vlog Quindi preparatevi Perché arriverà Molto presto Anche il video vlog E basta Detto ciò Divertitevi Divertitevi E mi raccomando Andateci però Con questa consapevolezza Perché lo ribadisco Se non avrete Questo mindset Potreste addirittura Odiarlo Questo film Sicuramente Importanza Dell'MCU Relativa Diciamo che Come già detto Da Kevin Feige Chiaramente Rivedremo Deadpool e Wolverine La messa in gioco Del film Riguarda tutto sommato L'intero MCU Quindi si può considerare In realtà Importantissimo Ma allo stesso tempo Anche Inutile Volendo per la macro trama Cosa saggia Secondo me Ma del resto Anche Loki Lo è Anche la stagione di Loki Uno può non averla vista Non sa che il multiverso Era in pericolo Che Loki adesso L'ha rimesso tutto assieme Uno non ha visto La stagione di Loki Per lui Loki è morto In endgame E arrivederci E grazie Quindi è anche brava Marvel a fare questo tipo Di cose Ma adesso passiamo Alla parte spoiler Quindi attenzione 3 2 1 Scappate 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 Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Quando l'avrete visto Parte spoiler 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 Ragazzi Il vuoto Il vuoto Il posto Dove finiscono Le persone Che hanno il mondo distrutto Che non valgono più nulla Che sono state falciate L'abbiamo visto in Loki C'è Alayot Torna la TVA B15 Adesso ha un ruolo di spicco Nella TVA Paradox Che compare all'inizio del film Era un merdone Si capiva da subito Infatti Si conferma tale Nei camei Troviamo Chris Evans Come torcia umana E non come Capitano America Quella è una delle scene Che mi ha fatto più ridere Con lui Che sembra Capitano America Ovviamente poi si rivela essere La torcia E fa quella fine Orribile Tra l'altro Mai avrei pensato Di assistere a un film Così volgare Se questo video Lo stanno vedendo dei minori Qualcuno che odia le parolacce Scappate in questo momento Perdonatemi Ma mai avrei Pensato di sentire In un film Disney Per quanto Marvel Ma Disney La parola sborra Ragazzi Si succede Preparatevi in sala Perché la sentirete La sentite Nella post credit Post credit Ve lo dico subito Che riguarda Chris Evans Riguarda Deadpool Che deve giustificarsi Dell'aver fatto uccidere La torcia umana In una scena Per via di una scena Che il film Non ci ha mostrato In cui effettivamente La torcia Diceva le brutte parole Che Deadpool Ha messo in bocca Durante il film E tra queste C'era anche la parola sborra Mentre insultava Emma Corrin Ovvero Cassandra Nova Cassandra Nova Che è un personaggio Ripeto Spesso poco Hanno provato a raccontare Un po' il fatto Che sia il doppione Malvagio di Xavier Che i due Già nell'utero In qualche modo Si siano combattuti Non hanno voluto Raccontare nel dettaglio Però l'accenno c'è Comunque mi piace Che hanno voluto cercare Di riportare Quella parte Di personaggio Degli altri camei grossi Diciamo A parte i vari Joggernaut Che non è l'attore Di X-Men Conflitto finale Infatti Deadpool Ci scherza E dice Ah ma te ti interpreta Un altro adesso Ok Ecco Dei camei principali Sono quattro Quelli importanti A parte la torcia umana Ovvero La resistenza La cosiddetta La cosiddetta resistenza Capeggiata Immagino che siano di più Ma loro sono i più I quattro sopravvissuti Blade Blade di Wesley Snipes Signori C'è E ha anche un bel ruolo Duraturo L'Electra L'Electra Di Jennifer Garner Che torna da Daredevil Informissima tra l'altro Fantastica Bellissima Il Gambit Di Channing Tatum Gambit Il francese Lanciacarte esplosive Salito alla ribalta Negli ultimi tempi Con X-Men 97 Nel caso qualcuno Non lo conoscesse Ora è tornato A essere famoso Diciamo Grazie a quel cartone animato Interpretato da Channing Tatum E lui non ha mai interpretato Gambit Era un progetto Che doveva nascere In seno a Fox Che poi non hanno mai sviluppato Infatti nel film Fanno proprio questa battuta Ah Chissà Io forse non sono nato qui Io forse La mia avventura Il mio universo Manco è mai nato Infatti Povero Channing Tatum Il suo Gambit Non l'abbiamo mai visto Tra l'altro è terrificante In quei costume Ma credo sia un po' voluta Anche la scelta Di farlo Così un po' gigione È un po' strano Da vedere E chiude il quartetto L'abbiamo visto Daphne Keen Oddio adesso mi sono dimenticato Il nome Comunque Penso sia giusto L'attrice di X-23 La bambina di Logan Che qua invece è cresciuta E che convince in qualche modo Il Wolverine di questo film A sfoderare gli artigli Perché gli ricorda Il Wolverine Che lei ha incontrato Tra l'altro L'inizio del film Come dicevo prima Nella parte senza spoiler Lo esplicita molto Quello che vuole fare questo film Un film che comincia Con Deadpool Che tenta di sotterrare Il Wolverine di Logan Dicendo allo schermo E allo spettatore Qual è l'unico modo Per non Infangare Diciamo Il successo di Logan Come possiamo fare A fare un film Senza che lo infanghi L'unico modo in realtà È non farlo E quindi l'abbiamo fatto E quindi lui va A disotterrare Quel Logan lì Pensando che Sia ancora vivo Invece è morto davvero Ma lo utilizza Perché gli strappa I pezzi di scheletro Di Adamantio E ci uccide La gente della TVA Dissacrando nel corpo Effettivamente Quindi il povero Logan Il povero Wolverine di Logan Viene Distrutto E necrofilizzato Poveraccio Utilizzato come arma Questa cosa Magari è un purista Che aveva molta affezione Per quel film Non lo so Potrebbe essere anche una roba Di cattivo gusto È vero che parliamo di film Per carità Però come dicevo Già questo momento Ti fa entrare nel film Cioè se tu accetti questo Sei pronto poi a cavalcare Per tutto il resto del film Perché questo è Questo il film Vuole Vuole essere Ci sono altri Camei importanti Sul finale Che sono tutti I Deadpool Alternativi Quindi abbiamo Lady Deadpool Lady Deadpool Interpretata da Blake Lively Anche se non si vede mai Ma lo dicono I titoli di coda Abbiamo Dog Pool La cagnolina bellissima Per quanto mi riguarda Anche se ha vinto il premio Come cagnolina più brutta Del Regno Unito Realmente Poverina Ma noi le vogliamo bene Come dice Hugh Jackman Lei ha vinto il premio Ma noi non glielo diciamo Per noi è bellissima Ovviamente c'è Nice Pool Deadpool Samurai Ecco Molto sacrificata La Deadpool Corpse Cioè c'è Kid Pool C'è Baby Pool C'è Head Pool Ma hanno un ruolo Veramente Veramente Scialbo Veramente Di comparse Compaiono letteralmente Solo in una scena Di massacro Non hanno grandi Frasi Grandi Grandi cose da dire Magari in futuro Li rivedremo Dopotutto non sono morti Sono stati solo Distratti Dall'amico di Deadpool Che c'è in tutti gli universi L'unico e vero comprimario Che ha un ruolo importante In questo film E quindi magari Li rivedremo E hanno deciso per quello Di sottosfruttarli un pochino Chiaramente E non è C'è una battuta Ma non lo è Come dice Deadpool Wolverine Fino a 90 anni La Disney Ti vuole utilizzare Quindi ragazzi Li rivedremo 100% Li vedremo 100% Dopo che hanno salvato Il multiverso Comunque hanno salvato L'MCU Se non era per loro Cassandra Lanova Avrebbe distrutto tutto Quindi in qualche modo Come dicevo prima Civilmente a Loki Questo film ha una sua Certa importanza Perché vuol dire che Senza Deadpool e Wolverine Il multiverso Sarebbe completamente Andato a donne Di facili costumi Musiche fantastiche Momenti musicali Li ho veramente adorati Usati spesso Per le scene di lotta Il mio momento musicale preferito È innanzitutto Il montaggio iniziale In cui Deadpool Va dai vari Wolverine E uno di questi Tra l'altro È Henry Cavill Stavo morendo Dal ridere Tra l'altro Reno si dice anche Ah Qua ti trattano Ti trattiamo meglio Che quegli stronzi All'angolo della strada Cioè la DC Comics Quindi ti trattiamo meglio Ed è l'unico in realtà Wolverine Non Non interpretato Da Jackman Quindi mettiamo anche in chiaro Questa cosa Per chi andava a caccia Di Kamei C'è una Un momento appunto Di confronto Con vari Wolverine Tutti presi dai fumetti Bellissimo C'è anche il Wolverine Dell'era di Apocalisse Senza un braccio Insomma C'è veramente tanta citazione Fumettistica C'è il Guercio Che non è Daniel Radcliffe Ma è sempre È sempre Hugh Jackman E A parte quella parte lì L'altro montaggio Che mi ha piaciuto molto A livello musicale È stato Sentire You are the one That I want Di Grease You are the one That I want You are the one That I want Hugh Hugh Ecco quella lì Nel combattimento Con loro due Dentro la onda Che è uno degli spot Più belli del mondo Perché chiaramente La onda Fa parte di quelli Che hanno scucito il grano E guardate come l'hanno utilizzata Quello è un Product placement Secondo me Fatto divinamente Quindi il combattimento Nell'onda Con you are the one That I want Io sono Morto Da ridere Veramente Veramente tanto Ma il film Si pone Cioè si regge Tutto su questa cosa Su loro due Che fanno I cazzoni L'uno Con l'altro Quindi È proprio quello Ed è quello Che vuole essere È quasi un primo passo Nell'MCU Rispetto a quello Che Deadpool Probabilmente tirerà fuori Nei prossimi film E se abbracciate Questa veramente Cazzoneria Riderete dall'inizio Alla fine Ci sono camei Infiniti Anche di altri Mini personaggi Ci sono dei mezzi Che si vedono nel film Oltre alla macchina Del teschio rosso Con il cosino Di Iron Man Sopra C'è anche La Fantastic Car Se guardate C'è una macchina Con il 4 sopra Che vola È la Fantastic Car Dei Fantastici 4 Quella dei primissimi fumetti C'è P.O. Gun All'inizio Nel 2018 Di Terra 616 dei film Quindi prima Di Infinity War Prima quindi Che Iron Man Schiattasse Ma bellissimo Come Ryan Reynolds Fa notare Che non vuole più Fare i camei Robert Downey Jr Insomma C'è tanto modo Di scherzare Sul cinema C'è a un certo punto Deadpool Che manda a fare in culo La Fox Perché dice Ma fa in culo Fox E dà le testate Alla telecamera Quando scopre finalmente Di poter entrare Nell'MCU Si parla di cultura walk Si parla di come internet Potrebbe prendere certe scene C'è una battuta Sull'abilismo Ah La cultura walk Non amerà Il fatto che tu Hai scherzato sui disabili Alzandoti Dalla carrozzina Si parla di molesti sessuali Sul fatto di essere Toccati sul set Lui fa Dov'è il love Interaction Love Consultant Cioè quello che sul set Si premonisce Di istruire O di controllare Che i vari contatti Tipo scene di sesso Eccetera Eccetera Siano fatti a dovere Per evitare appunto Problemi Tipo molesti Eccetera Eccetera Raccontare E' veramente Figlio anche un po' Dell'internet Quindi questo Deadpool Wolverine è pieno Pieno di queste cose Vi ribadisco che la post credit È solo questo Non c'è nient'altro C'è Chris Evans appunto In una scena non mostrata Che effettivamente Insulta Cassandra Nova E quindi ci viene dimostrato Che Deadpool Non è stato così stronzo Perché la cosa che fa nel film Aveva fatto un po' dire Cavolo però Wade è così cattivo Non lo era più Come mai? Perché in realtà Era vero quello che aveva fatto Chris Evans Quindi carino Questo modo di giocare Ma non aspettatevi Delle post credit Folgoranti Basta Non ho molto altro da dire Se non che Il Wolverine Di quell'universo Che oramai non ha più mutanti Di fatto è Quasi Andato a Ramengo Pur esistendo ancora Decide di trasferirsi In quello di Deadpool In terra 10.000 9.500 10.500 Oddio non mi ricordo Un po' di 0 e un 5 Alla fine E quindi chiaramente Ora sono compagni di avventure Sono amici Abitano magari addirittura Sotto lo stesso tetto Wade Wolverine E la signora cieca Al Lorba E li rivedremo Li rivedremo Perché in Secret Wars Probabilmente verranno tirati Dentro il Battleworld O magari sarà la stessa TVA A un certo punto Se ci sarà bisogno Di loro due Ad andare a chiamarli Quindi state pur certi Che sono arrivati Nell'MCU Per rimanere Chiudo dicendo che Ribadisco Sul lato tecnico Anche della computer grafica Il film Non è grandioso Non è grandioso Anzi forse Ha Il budget È andato tutto veramente Per gli attori Per i contratti Eccetera Più per la realizzazione Del film in sé Che anche come scenari Non offre niente Di così grandioso La roba più interessante È proprio L'enorme Paul Rudd Ant-Man Giant-Man Usato come base Per Cassandra Nova Però diciamo Che tutte queste Magagne O cose negative Tecniche Vengono in qualche modo Spazzate via Dall'ironia E dalla carica Dalla voglia Di Ryan Reynolds Di continuare a giocare Con Deadpool Con Wolverine E in questo caso Anche con l'MCU Ripeto Siamo solo all'inizio Visti gli incassi Di questo film Tra l'altro Mi aspetto Cose gigantesche In futuro E magari un rilancio Anche verso l'alto Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Di questo Deadpool e Wolverine Ripeto A me è divertito tantissimo Posso comprendere Che qualcuno di voi Potrà anche odiarlo Ricordiamoci Non esiste Giusto e sbagliato In questo caso Soprattutto C'è un film Con un intento preciso Che valutato Per il suo intento Secondo me Ne esce super positivo Se si decide Di non abbracciare Questo intento Non è cosa E lo posso Lo posso capire Personalmente Io però Mi sono divertito Veramente Veramente tanto Non vedo l'ora Di rivederlo Avremo ancora occasione Di parlarne Sicuramente Perché è un film Che farà Chiacchierare Tantissimo Di sé E lo faremo Su questi vidi Ma anche su Twitch In una serie di dirette Super fighe Che Possono esistere Anche grazie a voi Quindi mi raccomando Venite a trovarmi Iscrivetevi Anche al mio canale Twitch Qua sotto Trovate tutti i link Sia nei commenti Che nella descrizione Del video Per raggiungermi Anche da altre parti Fatelo Perché siete una bella community Siamo una bella community E se diventiamo ancora di più Io sono solo che Contento Avrò perso sicuramente qualcosa Qualche cameo Qualche accenno Qualcosa da dire Ma C'è tanto Ci sarebbe tanto Fin troppo da dire Non voglio dilungarmi troppo Tanto ne parleremo ancora Sicuramente Tantissimo Anche nel vlog Che caricherò Quando andremo Alla prima Dell'Arcadia di Mezzo Quindi mi raccomando Seguite anche Quel vlog Grazie per essermi stati Ad ascoltare Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Sono contento Che Deadpool e Wolverine Siano entrati Nell'MCU E non vedo l'ora Di rivederli Noi ci vediamo Al prossimo video E fate i bravi Ciao